E Natale è tutto tace, c'è qualcosa sulla brace, non è pollo né tacchino... Bene, con questa fantastica filastrocca di Natale direttamente da Paolo Chiavetor che vi do il benvenuto a questo video natalizio. Natalizio per modo di dire, in quanto in realtà i veri speciali di Natale arriveranno più avanti. Però io ne approfitto per farvi vedere il nostro bellissimo, stupendo, morbido albero di Natale e per farvi entrare tutti quanti nell'ottica di quello che avverrà delle settimane qui a venire. Bando alle ciance, di cosa parliamo oggi? Di giacche. C'è Natale, c'è freddo, qui dentro ci sono 80 gradi, ma io comunque andrò a indossare delle giacche invernali per farvi vedere quanto sono divertenti, belle e piacevoli. Oggi parleremo in particolare della Soft Shell Tactical della Defcon 5. Veramente una gran giacca, ragazzi, io adoro questo tipo di giacche, ci farei il bagno dentro. Quindi partiamo con la sigla. Come avete visto in questi ultimi video stiamo cercando di cambiare un pochino le inquadrature. Ah, perché io mi sono stracciato le piellate di vedere sempre lo stesso sfondo e immagino un pochino anche voi. Quindi in questi mesi cambieremo un pochino le dinamiche di quello che siete abituati a vedere. Speriamo vi piaccia, scrivetecelo nei commenti se così fosse. Parliamo quindi della giacca Defcon 5 Soft Shell. Cosa penso di questa giacca? Penso che sia molto molto figa e che tendenzialmente, visto che di Soft Shell ce ne sono 350 miliardi nel parco, attrezzatura da soft air e il resto sia una delle più valide, sia per i materiali di cui è fatta, sia per alcune funzioni che gli sono state date. Sì, anche le giacche hanno delle funzioni, proprio come i fucili. Tutto quello che recensisco ha delle funzioni, anche War ha delle funzioni. All'apparenza è completamente identica alle 350 Soft Shell che avete visto. Ma, se prestate attenzione, noterete che ci sono delle differenze sostanziali. Prima di tutto, il velcro dei polsini della manica. Io, che sono possessore, sono stato possessore di Helicon, che è una di quelle Soft Shell che si posiziona mediamente bene, in una scala da basso a alto, per così dire, devo dire che se c'è una cosa che non sopportavo era il fatto che il velcro e in generale tutti gli attacchi di velcro della giacca andassero a rovinarsi con il tempo. E visto che è un togliere e attaccare patch di continuo ed è un togliere e chiudere questo piccolo polsino qui che serve a fare sì che la giacca non sia un imbuto quando vi arriva vicino alle mani, è una cosa che dà veramente tanto fastidio. Ma veramente tanto. In questo caso il velcro è fatto veramente molto bene e anche il sistema di chiusura rimane bello aderente e non si va a sfilacciare col tempo e o ad aprirsi a seconda di quanto velcro avete attaccato a questa piccola fibietta. Tra l'altro è molto molto simpatica, un pochino opaca, un pochino meglio curata rispetto alle altre che ho visto. I due velcri, quindi quello presente qui e quello presente qui, sono a maglia larga, quindi non sono quello classico che si va a sfilacciare, ma è un pochino più largo e blocca per bene anche le patch. Tra l'altro è bello morbido, spugnoso, quindi è anche divertente da toccare. Troviamo sempre un cappuccio integrato all'interno del colletto della giacca, ma a questo giro non è fisso, ma si può andare appunto a rimuovere. C'è una cernierina che voi andate ad aprire e staccare il cappuccio. Tutte queste caratteristiche sono sì interessanti, ma prima di andare avanti penso sia necessario andare a spiegare un pochino più nel dettaglio cosa si intende per softshell, tactical, jacket, impermeabile. Cioè questo genere di giacche sono state ideate appunto come un riparo morbido, uno scudo morbido, un guscio morbido, sarebbe divertente, deve andare in giro col guscio come le tartarughe, per andare a proteggere l'operatore da danni minimi e per essere utilizzate in situazioni in cui sicuramente non siamo al baretto a berci una birra o a fare le vasche in centro. Quindi sono giacche tattiche, come dice il nome stesso, che vengono utilizzate per tirare al poligono, per servizio di vigilanza, per camminate in montagna e anche nel mio caso per passeggiate in città, che sicuramente giovano, visto che tengono anche un gran caldo. In poche parole si sposano bene a tutti quegli ambienti in cui non siamo col culo seduto sul divano, non siamo in un ambiente amichevole che ci abbraccia, ma dove in realtà abbiamo bisogno di sopravvivere e di combattere. Molto interessanti e soprattutto personalmente viaggio abbastanza tanto e queste cose qui sono comodissime, sia per trasportare quei piccoli oggetti che ci venne comodo tirar fuori abbastanza frequentemente, che per in generale stare al caldo, stare riparati e nel caso venga a piovere non avete nessun tipo di problema, perché sono anche impermeabili. Quindi una softshell sostanzialmente serve a quello. E devo dire che questa giacca ci prende in pieno molto più di altri modelli molto più economici, che sì, hanno l'aspetto di una softshell, ma nella sostanza non lo sono. Ovviamente, visto che la maggior parte di quelli che seguono il canale sono interessati al mondo del softair, poniamola all'interno del mondo del softair, perché va bene andare in giro per le città, va bene andare a girare al poligono, ma noi che lo usiamo per il softair come ci troviamo? Divinamente. Devo essere sincero, questo tipo di giacca è quello che ho usato anche nel video più famoso del canale, ormai ovvero la prova di tiro con lo scudo tattico e mi ha salvato parte delle giunzioni e la pelle in più di un'occasione durante quel video. Oltre a tenere un gran caldo e quindi abbracciare per bene il corpo, dà la possibilità di essere un pochino più riparati non solo dai pallini che ci possono arrivare addosso, ma anche da intemperie, graffi, strappi, sassi che vi arrivano addosso, vetri rotti, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto non sia sicuramente una giacca pensata per fare il juggernaut, detta come va detta, è estremamente utile e resistente. Anzi, avrei preferito avere questa in tante di quelle occasioni in cui mi sono ritrovato a spaccare le altre, ve la metto giù in questi termini. Quindi per il mondo del softair è estremamente comoda, anche perché, come detto, avendo la possibilità di essere personalizzata e adattata all'operatore, sì, si adatta tutto all'operatore, tutto deve essere adattato all'operatore, altrimenti non ve lo portiamo. Questa giacca è perfetta. Una cosa che ho trovato particolarmente utile quando vado a giocare a softair è la possibilità di avere le prese d'aria sotto l'ascella, ovvero c'è una cerniera che potete andare ad aprire e permette all'aria appunto di entrare, il che rende un pochino più termoregolabile la giacca. Quindi potete andare a avere, se avete caldo, come me in questo momento, perché un papiri fatto ad orsetto, oltre ad aprire la cerniera sul collo, sono limitati. In questo caso andrei ad aprire le cerniere sotto la giacca e far entrare copiose vampate d'aria fresca e far uscire copiose ventate di puzzo. Un'altra cosa che ho apprezzato, prima di mettermela in dosso e farvi vedere la differenza essenziale che c'è tra questa e una giacca Helicon, che è la mia attuale giacca, ancora per poco, è la presenza di queste taschine interne. So che alla maggior parte di voi non frega niente la taschina interna, ma per me è una condizione d'esistenza essenziale che ci deve essere all'interno della giacca che vado a comprare, perché mi trovo molto spesso ad avere tanti oggetti in tasca, occhiali, cappello, telefono, cuffie, portacuffie, anelli, portafogli, bigliettini da visita, lame di varia natura, no sto scherzando ovviamente. E questa viene molto comode per tenerli ordinati e soprattutto al sicuro, magari un determinato documento, il biglietto dell'autobus, una di quelle tante cose che vi viene a servire comunque la potete mettere all'interno, compreso quando andate a giocare, telefono o oggetti comunque che dovete tenere vicini e magari non vi volete portare dietro il portafoglio. Ce ne sono due, in due parti diverse della giacca, quindi dalla parte destra e dalla parte sinistra, e io trovo a essere una gran figata, perché purtroppo le altre è una cosa che non mettono e permette alla giacca, questa giacca soprattutto, di essere malleabile e adattabile. Mi metto indosso la mia vecchia Helicon e poi questa vi faccio vedere le differenze. Questa è la mia vecchia Helicon e questi attacchi non fanno più niente, quindi sostanzialmente ho sempre l'orologio incastato lì dietro e non posso bloccarla in questa maniera in modo tale da tenere fuori almeno l'orologio, perché tanto non rimane attaccata. L'ho usata per tanto tempo, è sicuramente una giacca valida, ma a lungo andare è andata a smollarsi e perdere la sua resistenza, per così dire. Troviamo ovviamente la possibilità di attaccare patch sul lato da entrambe le parti, numerose tasche sui lati, eccetera, eccetera, eccetera. Ma cambiando giacca è già chiaro quanto le differenze tra le due siano abbastanza importanti. Partiamo dal presupposto che questa è una L e veste molto meglio, a differenza dell'altra che invece è fin troppo grossa, ok, e quindi mi fa l'effetto omino Michelin. Questa veste molto meglio, gli attacchi velcro funzionano e si attaccano perfettamente, indipendentemente dalla posizione in cui sono messi. Vi abbraccia meglio, sta molto più comoda e anche le tasche, la comodità che avete per raggiungerle e andarle a chiudere, devo dire, essere superiore. Avete la possibilità tra l'altro di mettere, di avere una taschina anche qua sul braccio, cosa che ha anche la Helicon, ma questa è molto più comoda per andarci a mettere il biglietto dell'autobus, lo ski lift e tutto il resto. È veramente molto comoda, anche queste tasche laterali sono meno sul davanti della giacca e più sul lato, in modo tale da andare a riempire i fianchi e non tanto il davanti, che rende la giacca ancora più ingombrante e scomoda. Senza parlare del fatto che queste taschine interne sono veramente una cosa che io adoro a tutti gli effetti. Questa giacca è veramente molto bella, ragazzi, c'è poco da dire. È leggera ma tiene lo stesso caldo dell'altra. Non ho intenzione di uscire provandole entrambe per confermarvi la cosa, perché visto che stavo marendo di caldo qui dentro, la differenza termica tra una e l'altra è già la palissiana. E anche la possibilità di andare a termoregolarsi non è una cosa da sottovalutare. Una feature che personalmente non ho mai utilizzato, ma in realtà, devo trovare un punto dove no, un fascio di luce atomico in faccia, ma che in realtà è molto comodo, è il tascone qui dietro. Ovvero queste giacche sulla parte posteriore hanno la possibilità di essere appunto aperte, con questa tasca simile a quella che hanno le felpe sul davanti, per andare a infilare all'interno il cinturone. In modo tale che se vi dovete mettere il cinturone giustamente sopra, non ve lo dovete mettere sotto le gambe o tenerci la giacca sopra, che vi impedirebbe di andare a estrarre i vari accessori. Fatto veramente molto bene, è una feature apprezzata e soprattutto molto comoda per voi che giocate a soft hero o fate tiro al poligono. Questa giacca mi piace veramente tanto, non mentirò. Quello che preferisco delle softshell, ma in particolare di questa softshell, è il taglio civile di un'attrezzatura tattica. Ovvero la possibilità di utilizzare questa giacca per fare sostanzialmente sia le cose inerenti al mondo del softair, al mondo del poligono, al mondo dell'ambiente tattico, definiamolo in questi termini, e allo stesso tempo rimanere estremamente capaci e allo stesso tempo avere la possibilità di utilizzarla in città, per andare a fare la spesa, per andare in macchina, per andare dal commercialista, senza sembrare invasato. Ve la metto giù in questo termine. Cioè è veramente molto comodo poterla utilizzare in qualunque situazione, senza essere impedito né in una né in altra. Una cosa interessante da dire è che le differenze tra questo tipo di softshell tactical e una della Helicon, per esempio, sì, possono essere veramente minime, ma lo è anche il costo. E sinceramente per i materiali e le features offerte in più dal modello della DEF CON 5 non c'è paragone. Io mi fionderei direttamente sulla DEF CON 5, chiaro e tondo. Spero che questa recensione vi sia piaciuta, se avete ulteriori domande c'è la sezione commenti dove siamo pronti a rispondervi. Se qualcun altro mi chiede di consigliargli un fucile entry level, giuro che lo banno dal canale, stiamo ovviamente scherzando, chiedeteci pure quello che volete. In descrizione trovate il link per acquistare questa giacca, potete anche trovare un pochino di informazioni in più se vi interessa. E soprattutto c'è una simpatica signora rosa che mi guarda dalla vetrata, ed è lì ferma, che mi fissa. Quindi trovate in descrizione tutti i link per acquistare questa bellissima giacca, o semplicemente per sapere di più, cliccate sul link. Il link non vi morde. Ma soprattutto trovate il link di Instagram, sia mio che da negozio. Veniteci a seguire, pubblica una marea di contenuti e soprattutto video deficienti divertenti. Piacevoli, iscrivetevi, grazie. Ci saranno esclusive importanti per i prossimi speciali. E rimanete sintonizzati perché settimana prossima uscirà finalmente lo speciale di Natale, dove andremo nuovamente a mangiare tanto di qualcosa. Quindi rimanete sintonizzati. Qui da Red è tutto, io vi ringrazio per essere stati qui con me oggi e soprattutto stay angry. Secondo te glielo dovremmo dire che mangeremo un chiu...